ben ritrovati e ben ritrovati ve l'ho riportato perché tendenzialmente vengo sempre io a casa tua questa volta ti spalanco le mie umili porte ben ritrovato a colpo gobbo ciao a tutti ragazzi inutile dirvi di seguirlo ovunque non solo qua su youtube lasciare la vostra iscrizione al suo canale ma in generale è proprio qualcosa che bisogna fare a prescindere per sostenere il mondo giuventino quindi per sostenere il mondo giuventino guardiamo i video lasciamo i nostri like e le nostre iscrizioni allora lello oggi ci sono grandi chance come dicono quelli bravi according to my sources secondo le mie fonti che arrivi l'annuncio del rinnovo di manue locatelli fino al 30 giugno duemila e ventotto ti chiedo ti convince non ti convince un tuo giudizio su questa mossa proposta dal duo giunto limanna no mi convince mi convince manuel ovviamente sai che c'è nella mente di tanti tifosi c'è sempre il paragone ingeneroso nei confronti di pirlo pianic no questa questa eredità pesante che ha locatelli locatelli è un ultimo giocatore che nelle ultime gare secondo me ha fatto anche discretamente bene parte con la fiorentina che è stato un difensore aggiunto ma è stata una partita particolare per come è stata giocata però con l'Elas Verona ha fatto una gran partita per cui è un ottimo giocatore che si è inquadrato bene può dire la sua la grandissima poi credo che al di là del rinnovo fatto per tutelare un patrimonio tecnico la juventus abbia attuato anche questa mossa per spalmare un po' quella che è la quota di ammortamenti sul lungo periodo non so che valore residuo abbia manuel ma abbassa leggermente i costi annuali ecco una situazione di questo tipo ma lo vedi più maturo anche in termini leadership perché mi sembra che Allegri in questa stagione lo abbia alloggiato a più ripresa anche per il suo atteggiamento magari all'interno dello spoletoio cose che non sono visibili per noi comuni mortali ma che poi sono fondamentali per consolidare un gruppo e fare in modo che viaggi in una certa maniera guarda lo vedo molto più presente nei 90 minuti rispetto anche banalmente all'anno scorso perché l'anno scorso magari ti faceva anche una partita discreta e poi magari qualche errore qualche passaggio di troppo sbagliato lo vedo molto più concentrato nei 90 minuti è molto più propenso a sbagliare poche cose e influenti io ricordo certi strafalcioni di passaggi mal riusciti di manuel che ci hanno messo in difficoltà l'anno scorso quest'anno non ricordo errori particolari a livello di presenza non ti so dire mi auguro di sì perché alla fine italiano tifoso juventino avere sicuramente un leader all'interno dello spogliatoio di questo tipo mi farebbe sicuramente piacere perché no oggi sarà il giorno di loca duemila e ventotto come hashtag domani quello sempre di eh fino al duemila e ventotto ma di fagioli domani ci sarà la sua firma e anche qui dovrebbe arrivare l'annuncio ti chiedo una tua valutazione su questa mossa della juventus considerando quanto stia affrontando eh fagioli dopo quello che ha fatto. Beh è una gran mossa di vicinanza non credo che tante società insomma avrebbero usato questo tipo di di tutela nei confronti di un proprio tesserato dopo tutto ciò che è successo. Io apprezzo questa vicinanza della Juve al ragazzo e mi pare non so correggimi se sbaglio Rome ho come l'impressione che eh la Juventus per la prima volta anche magari il grande errore te lo perdona anche la seconda magari un po' meno ma nel primo errore ti è vicina ti ti dà sostegno e secondo me. Pensi che sia anche una sorta di Paul Pogba cioè eh sì perché me l'ha passata la stagione Paul Pogba si fa male decide in prima persona tutto quello che ha deciso te terapie conservative quindi ha compromesso ulteriormente la situazione salta la prima parte di stagione salta il mondiale salta sostanzialmente anche la seconda parte di stagione quest'anno commette si sarà dimostrato poi concretamente eh oddio purtroppo anche la controprova ha dato esito positivo però vediamo quale sarà l'evoluzione comunque c'è questo caso e la Juve lì non si espone come invece ha fatto per Fagioli. Hai capito perfettamente qual era il discorso anzi ti dirò a livello social Fagioli ogni tanto appare negli allenamenti si vede no non è tenuto là nascosto. Sì perché ricordiamo Alello che lui a differenza di Pogba può allenarsi. Le regole ti consentono di poter allenare in gruppo. Però vedi Pogba è completamente sparito dai social Juve se ne parla più è proprio un desaparecido per cui è cambiata no eh la musica nei suoi confronti però parliamo di due errori uno della valutazione dell'infortunio che ha portato ovviamente Pogba ad essere eh fuori tutta la stagione per dopo il più c'è stato insomma quel rientro con la Cremonese si fa male finisce la stagione eh Fagioli questo è il suo primo grande errore la Juve lo sta spalleggiando in questo percorso che dovrà intraprendere per uscire da questa situazione e poi addirittura gli propone il rinnovo fino al duemila e ventotto e secondo me fa bene la Juventus anche a tutelare un asset. I calciatori sono degli asset importanti lo hanno cresciuto praticamente cioè la Juve lo ha cresciuto da quando era piccolissimo ad oggi e credo che sia corretta la mossa di rinnovarlo. Vabbè sì l'ellone che possa essere proprio questo il discorso cioè Nicolò va per i ventitré anni se non erro è un giocatore che ha già dimostrato di essere da Juve che ha potenzialità enorme che sta vivendo queste difficoltà però ti garantisce togli che deve in questa andata non potrà più giocare sostanzialmente ci siamo fatta forse per l'ultima partita però ti garantisce programmazione e tu lo blindi ulteriormente gli fai sentire la vicinanza da parte della società ma al tempo stesso tuteli anche come dicevi tu un asset cioè ci vedi anche un discorso un po' aziendale perché magari uno come Fagioli per le prospettive le qualità che ha già potrebbe essere un calciatore da proiezione 3-4 milioni netti invece tu con questa mossa e vicinanza e poi da parte sua ci dovrà essere anche riconoscenza non so se mi sono spiegato. Sì sì assolutamente sì sì sono d'accordo anche con questa con questa tua visione e credo che sia la più corretta e la più coerente poi anche nei fatti ci sta la grandissima fila fila perfettamente io ti do sostegno poi tu dovrai comunque ridermi qualcosa anche sul campo quando tornerai sembra quasi questo il monito ma io sono sicuro che Fagioli tornerà e farà bene le sue qualità sono in dubbio e ci mancano terribilmente credo anche quest'anno in certe partite nella fluidità del gioco un giocatore come lui manca tant'è vero che poi la Juventus andrà inevitabilmente sul mercato a prendere un giocatore con delle caratteristiche un po' affini un giocatore che è bravo negli ultimi 30 metri che sappia palleggiare bene che sappia creare delle situazioni interessanti davanti. Mi hai fatto un assist ma lo hai fatto soprattutto per te stesso perché dovrei darmi una risposta mercato manca un tassello la fila strocca recita e recita la fine a giugno Locatelli e Rabiot la invece per quanto riguarda la mezz'ala destra abbiamo un punto interrogativo che può essere colmato con Miretti proveniente dal suo primo gol in Serie A complimenti Fabio può giocarci McKennie però deve avere un quinto a destra e attualmente non lo abbiamo perché UEA rientra dopo la sosta e De Sciglio che comunque in molti dimenticano ma nella seconda parte di stagione il suo contributo lo darà da tarare poi sul grave infortunio che ha avuto però ci manca quel giocatore ecco a centrocampo. Chi vorresti e se ti sei fatto un'idea un po' un po' più concreta di questo blitz di Giuntoli e Manna a Londra? Guarda del blitz di Giuntoli e Manna io credo che ci siano delle grosse opportunità di mercato legate però a un ruolo che per me non è così fondamentale in questo momento la Juventus che è quello del mediano cioè Calvin Phillips o i Bjerg secondo me rispondono più a quell'esigenza tattica un giocatore davanti alla difesa gran solidità difensiva grande esperienza anche che sappia gestire bene la palla senza troppi affanni ragioni calcio a uno due tocchi sono questi giocatori qua io credo che invece la Juve manchi qualcos'altro manchi la mezzala che ti vada a creare l'ultimo passaggio sia bravo nell'uno contro uno che non abbia paura di prendersi la responsabilità di chiedere palla che ti viene incontro che sappia ricamare giochi gioco tra le linee io credo che l'unico profilo che in questo momento tra i tanti nomi che sono stati fatti in orbita Juve l'unico nome che credo che sia quello di Samar Zic è vero che è giovane che magari la Juve cerca anche un po di esperienza eccetera però vedo in lui delle caratteristiche una prospettiva rosea un giocatore da plasmare che può secondo me impattare migliorare subito il gioco della Juve. Quindi Lello tu sei più diciamo team talento a prescindere dalla componente anagrafica che team esperienza cioè tu comunque il ragionamento dimmi se sbaglio è se posso prendere Samar Zic a gennaio me lo prendo. Sì ma anche per l'esigenza tattica a meno che l'idea non sia quella di sposto Manuel Locatelli nel ruolo di mezzala perché so che può farmi quel tipo di lavoro ma non vedo quel tipo di attitudine per le caratteristiche che ha lo stesso Locatelli per cui io apprezzo Calvin Phillips più di Uriberg in realtà però mi sembra un giocatore che non sposta tanto in questo momento alla Juve a me piace il più che piace in assoluto è che Frenturam ma lo trovo più alternativo a Rabiot che insomma alternativo a un Pogba o a un Fagioli cioè se vogliamo un giocatore che negli ultimi 30 metri possa fare assist possa far gol secondo me Samar Zic risponde più a questi identikit due piedi assist gol poi diciamo stare l'udinese quest'anno per come sta andando per il valore del giocatore indiscutibile è 21 anni ingaggio basso costo del cartellino magari costerà però lo trovo sostenibile un colpo intelligente e utile alla Juventus tutto chiaro passiamo al campo tu eri a Firenze hai fatto contenuti splendidi che invito tutti i miei amici i nostri amici in generale del mondo juventino qua su YouTube andare a pescare sul tuo canale ti chiedo ho letto ho visto le tue analisi tu sei molto onesto dici a livello di gioco c'è poco da dire in questo momento una Juventus molto risultatista però ti aspettavi in inizio stagione che la Juventus potesse ritrovarsi pre terza sosta stagionale con la possibilità di essere là concretamente attaccata all'Inter e in generale qual è la tua opinione su questo cammino fin qui guarda è una Juve molto concreta che lascia poco spazio alla fantasia di noi che vorremmo vedere qualcos'altro ecco sul campo eccetera però è una squadra che se ha l'atteggiamento giusto secondo me al di là del delle poche idee tattiche che vediamo è una squadra che comunque può far male a chiunque ai giocatori e le caratteristiche con la Fiorentina è vero che abbiamo sofferto tanto io sono rimasto parecchi in ansia per tutta la gara dagli spalti però c'è l'emotività c'è c'è l'esaltazione c'è c'è il canto e tutta l'atmosfera un po' particolare il pubblico che ci lanciava i gatti morti quasi puoi immaginare l'ha avuto paura no per i 90 minuti ma finita la partita ha avvertito quasi la sensazione di questi qua non segnavano mai cioè potevano rimanere lì a giocare fino a martedì la Fiorentina non avrebbe segnato cioè ho avuto questa sensazione Juve che è stata cinica l'azione che è stata fatta per il gol è fantastica bellissima è una di quelle azioni che vediamo tanto no fatte da De Zerbi fatte dalla vecchia Juve di Allegri un contropiede fatto bene poi qualcuno mi dice il passaggio di Rabiot fatto così così ma quel passaggio così così che è fatto effettivamente così così però Assis non lo fa Costic ma Parisi nella lettura di quella parisi va convinto perché quella palletta è forte ma non è forte no quindi la classica palla mezza e mezza che non sai decifrare se arriva bene la palla Costic forte è probabile che Parisi vada direttamente a chiudere Costic senza neanche buttarsi sull'anticipo invece proprio quella velocità l'ha portato gli astri gli astri hanno preso quella palla gli astri e hanno fatto in modo che arrivasse a Costic però una idea di quanto io abbia sottolineato questa cosa perché effettivamente la no la giocata che risolve poi con detto Premiretti ha fatto una bella prova con la Sverona quando è entrato è entrato molto bene e ha fatto molto bene secondo me anche con la Fiorentina per un tempo poi è un po' sparito ma credo tutti è alla Juve nel secondo tempo è entrato Milik che è stato decisivo che ha tenuto palla ci ha fatto respirare e quasi facciamo il secondo gol perché Terracciano fa una parata importante su Cambiaso guarda sono contento del risultato molto meno contento di quello che vedo io a Roma ho la percezione che questa squadra può anche arrivare a lottarsi lo scudetto giocando in questa maniera non troppo bella non fantastica neanche entusiasmante ma io in queste vittorie non ci vedo poi una strada lunga non ci vedo orizzonte non vedo prospettiva né di crescita per chi gioca né possibilità che questo modo di giocare possa essere sostenibile anche in Europa perché l'anno prossimo andremo in Europa a giocare quindi la se giochi in questa maniera ti fanno affette l'abbiamo già subito l'anno scorso noi l'affettata europea da parte di tanti Champions League anche dal Maccabi che è una squadra modesta per cui voglio un cambio anche da quel punto di vista ti fa paura la partita di sabato con il Cagliari sì perché guarda quando hai vinto contro una squadra tosta medio forte e io ho paura più della dell'inconscio di certi calciatori perché dopo che hai speso tanto dopo che hai vinto una partita importante quando hai un avversario così come il Cagliari che arriva tendi un po' sottovalutarlo inconsciamente io ho paura di questo se la Juve entra però a guerrita non dovrebbe essere una partita problematica cioè siamo noi avversi siamo noi gli stessi avversari nostri io dico sempre che la Juve stessa è la Juve stessa sì sono d'accordo ultima domanda Lellone le ultime indiscrezioni che ho raccolto sulle quali ho lavorato mi dicono che Douglas Costa bis sia destinato a non farsi con la Juve che ha probabilmente altre idee puntate magari su un po' più di freschezza ecco ti chiedo se tu facevi parte di coloro che una chance magari con ai centomila euro Douglas avrebbe chiesto di cui si sarebbe accontentato qual è il tuo pensiero avresti preso Douglas magari per sei mesi per 15 minuti 20 minuti a partito invece credi che sia giusto voltare pagina ho amato Douglas nel 2018 che credo che sia stato il finale fondamentale primo anno fondamentale però vero pazzesco l'ho visto dal vivo allo stadio da abbonato ed è il giocatore che dopo Ronaldo perché Ronaldo non è neanche un giocatore un alieno leviamo gli alieni mettiamolo tra i uomini normali uno dei giocatori più devastanti che abbiamo mai visto giocare anche se giocava a tratti anche se faceva lo spacca partite ma quando entrava una velocità di zampa che secondo me solo Vinicius solo alcuni hanno una velocità di gambe nel muoversi nel nel corto che la pazzesca adesso secondo me non è più quel giocatore noi ci siamo cristallizzati certe immagini di Douglas alla Juve di qualche anno fa e pensiamo che lui possa arrivare alla Juventus a ripetere quelle situazioni il calcio è cambiato lui è cambiato fisicamente ha avuto anche ha fatto un po di fatica secondo me anche in MLS a esprimersi fisicamente quel che io direi che con tutto il bene per Douglas che no non è non fa il caso nostro piuttosto perché non gioca i link se doveva decidere la scosta abbiamo i link lì parcheggiato diciamo che ti vuoi fare il tridente Douglas gioca a destra i link sulla sinistra però ecco cosa ti aspetti che il gennaio parta io sì io me lo aspetto a questo punto con grande dispiacere perché rischia di essere un rimpianto alla Kingsley Coman una roba simile rischia di essere un rimpianto però ti dico lato giocatore io mi metto di sui panni non sto giocando sto marcendo in panchina ho delle grandi qualità voglio andare a esprimerle altrove poi ognuno pensa a se stesso non è che lui io continuo a sostenere Lello continuo a sostenere perché molti mi chiedono ma il link non sta giocando perché non vuole rinnovare il contratto che ricordiamo lo va in scadenza il 30 giugno 2025 io ho dato una mia risposta io dico se ho detto il link non gioca perché quella diagonale è che ha fatto al trentottesimo Kostic per Bologna no a Firenze sotto i tuoi occhi se tu vuoi vedere Fiorentina ovviamente non puoi ricordare ma se tu vuoi farci caso Fiorentina Juve trentottesimo la diagonale di Kostic di testa che va quella roba lì per caratteristiche il link non ce l'ha perché ha altre qualità ed è quello il motivo secondo me cioè giocando in questa maniera dove non passa neanche uno spillo tra le linee la Juve non prende il gol da sei partite di fila il link è penalizzato dal fatto che una partita settimana o gioca Kostic o gioca Gambiasi. Guarda guarda uso un termine inglese anche nel garbage time nel casino più totale quando salta tutto anche in occasione di Juve Bellas cioè non gli viene neanche nell'anticamera del cervello l'idea healing ad Allegri di metterlo in campo e di creare qualcosa in più. Io ricordo banalmente in Benfica Juve partita che oramai era andata mette healing e diceva fa quel qualcosa in più e lo fa. Momento del casino si affida ad altri per carità è entrato comunque Kenan Hildiz che va anche vicino al gol poi non so se era fuori gioco o meno perché era allo stadio però era presente in quell'azione ha presenziato no e ha partecipato però sai non mi passa neanche nella testa Allegri per cui non lo vedi in questo momento e da questo punto di vista cioè uno come noi può immedesimarsi in healing come tifosi io vedi ah io rimango qua anche se non gioco ma uno come lui che deve pensare alla carriera poverino non può rimanere lì a marcire perché secondo me delle qualità clamorose che deve esprimere deve esprimere magari in un contesto tattico differente che lo possa valorizzare 433 se come sempre è enciclopedico grazie nellone seguitelo e mi raccomando ciao ragazzi grazie rome per l'ospitato ah figurati sono 100 euro grazie